ciao amici benvenuti benvenuti oggi siamo con il maestro christian abbiamo creato per voi un bellissimo pezzo com'è che si chiama disco corsa disco corsa è un brano per lui dedicato a me perché io vado sempre di corsa ho pochissimo tempo bene speriamo che vi possa piacere e buon ascolto ci vediamo presto ciao ciao iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.